... Sono veramente orgogliosa stasera perché finalmente Forza Italia si riappropria anche della propria identità qui nel comune di Piombino. L'apertura di una sede ovviamente è la volontà del radicamento di un partito sul proprio territorio. Io sono qui perché facciamo politica per i territori, per i cittadini dei territori, per le nostre comunità e siete riusciti in un'impresa incredibile. Francesco avete profanato un luogo sacro delle sinistre nella provincia. Mi piace sempre citare un'espressione che il vostro sindaco, allora candidato, disse in campagna elettorale. Dico quello che penso e faccio quello che dico e veramente credetemi, Francesco Ferrari sta dimostrando di tener fede a queste parole perché con coraggio veramente sta portando avanti le promesse che ha fatto a tutta la cittadinanza di Piombino. Non è semplice in politica rispettare quello che ha detto il sindaco Ferrari, per cui veramente voi avete avuto già un anno fa, avete avuto il coraggio del cambiamento. È il nostro momento per cui io vi chiedo, con coraggio abbiamo la stessa volontà e il 20 e il 21 settembre cambiamo il voto della regione e diamo una prospettiva a questa provincia. Perché per noi è importante, si tratta di fare campagna elettorale, si tratta di lavorare per i propri territori perché ci crediamo, abbiamo la passione, ce la mettiamo e vogliamo questo cambiamento. Noi ci mettiamo la faccia, ci mettiamo l'impegno, lavoro por grosso, lo dico sempre, lo fate voi, tutti i giorni, da ora fino al 20 e al 21 settembre dovete parlare con tutti, con i vostri parenti, con i vostri amici, con i colleghi di lavoro, con i vicini di casa. Dovete aiutarci a vincere questa battaglia perché questa è la battaglia che vinciamo tutti insieme per il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Io ringrazio veramente tutti voi, ringrazio il sindaco per essere venuto qui da noi, ringrazio tutti voi che siete intervenuti, ringrazio l'onorevole Tagliani e ringrazio il nostro senatore Valleni, il nostro commissario e speriamo che ci sia un futuro diverso per la nostra regione, per la nostra provincia, per Piombino, quindi forza Italia, forza Piombino, forza Toscana, grazie a tutti! Grazie a tutti!